Ciao amici, benvenuti in questa nuovissima puntata di Guess the Elo, che è come, ok, il prezzo è giusto, ma con la potenza nel gioco degli scacchi. Come si gioca a questo gioco? In pratica, vediamo delle partite giocate online in Blitz su chess.com, mi pare, sì, chess.com, infatti lo dice anche lì. L'elo, la differenza di elo può essere al massimo 200 ed è un elo medio tra i due giocatori. Sono partite Blitz quindi 3-5 minuti, l'elo è la potenza, l'abbiamo detto, la forza di un giocatore, io sono diciamo 700, quindi io di solito gioco così. Faccio schifo assolutamente a giocare, però è comunque un gioco che possono fare tutti, se capiscono un minimo di gioco, ma io faccio assolutamente schifo, però mi piace, è divertente. Come gioco, vedo quanto sono simili a come giocare io le partite. Più sono dissimili più è alto, mettiamola così, anche perché più basso è difficile. Diciamo che un giocatore forte è sopra i 1.800, 2.000, un giocatore molto forte è 2.600 e più, un computer è 3.200, per intenderci. Apertura a reti, ok, che si trasforma in una partita di donna, gambetto di donna, quindi wow, per ora è l'apertura, direi, per l'apertura direi sopra i 1.000, diciamo così. Ecco, questa mossa potrebbe essere un computer, cioè giocare, no, non è vero, però, ok, qua siamo già a una comprensione del gioco abbastanza elevata, potrei dire almeno sopra i 1.800. Vediamo come va avanti la partita. Ma chi ha una posizione migliore? Probabilmente il bianco, perché il nero ha ovviamente una torre in meno, ma a punti siamo uguali, giusto? Sì, perché ci sono due pedoni e un cavallo, però la sua torre non è attiva, il suo alfiere è meno attivo dell'alfiere bianco. Ah, è vero che ha un 3 contro 2 sul lato di donna. Ok. Beh, questa, ok, diciamo sopra i 2, secondo me è 2.100, dai. 2.100 ci può stare. Ok, 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 2.083, ottimo, ottimo. Sì, era una partita da maestro almeno, si vedeva. Attenzione, apertura strana di 3, quindi qua o è un computer, no però questa è, sì, è un'apertura che esiste, però forse qui questa non è la mossa migliore per il bianco, così è naso. Però, qui decide di catturare di re e non di cavallo. Partita molto chiusa, il bianco chiude tutte le linee possibili, il nero ha raggiunto l'obiettivo metti tutti i pedoni su case bianche, quindi probabilmente o è a 5.000 di elo, oppure a 600. Potrebbe essere entrambe le cose. Partita è difficile, allora non un granché, potrebbe essere 1.000, 1.000, cambia la torre? No. Vabbè, questa è una buona mossa, quindi mette, cioè, mette il cambio in suo favore, quindi, ok, sopra, sopra il mio livello, certamente. 1.500, come va a finire sta partita? E' davvero, è 1.500 oppure sono due grandi maestri che si stanno... E il re bianco cosa sta facendo? Ovviamente non poteva fare grandi altre mosse, patta. Dai, sarà... spero non più di 1.500, oppure sono dei grandi maestri che si stanno divertendo. Ok, 1.049, va bene. Facciamo l'ultima. Gambetto di donna. Ok, per ora tutto più o meno mi sembra sensato. Perché ha cambiato questo alfiere? Così? Gli piaceva cambiare l'alfiere. L'alfiere nero non ha fatto assolutamente nulla, non si è mai mosso, l'alfiere bianco si è mosso 10 volte. Quindi ok, eviterei magari il 5, diciamo, sopra i 2.500 direi di no. Protegge, cambia. Torre sulla seconda riga. Come cazzo chiama? Vediamo. Spinge pedoni, il bianco spinge pedoni, spinge pedoni, spinge pedoni, spinge pedoni, spinge il re, spinge il re. Beh, 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 però. Ok, non basso. Sopra i 1.800 direi. Eh no, 18.000 forse no. 1.800? Sì, dai, alla fine... Non hanno fatto... può essere anche di più, eh. Meno di 2.500 però, dai. Potrebbe essere più di 1.800 o meno di 2.500. Forse 2.000. È meglio. 1.800, quindi 1.800 era meglio da mettere. Ok, c'ero arrivato, dai. Come avete visto, non so perché metto questi numeri, però non sono tanto sbagliati, quindi sono contento. Va bene, faremo sicuramente qualche altra puntata perché è molto divertente. Ci vediamo alla prossima, ciao.